Buongiorno, la segna stampa di oggi venerdì 30 settembre, un po' disordinato oggi. Allora, il tema fondamentale oggi sui giornali è che i giornali stanno iniziando a ragionare su quella che è la riforma delle pensioni fatta dal governo Renzi, cioè non è una riforma, ma dai 6 miliardi che il governo Renzi, i vostri 6 miliardi che il governo Renzi, i nostri 6 miliardi, metterà nelle pensioni. Ieri vi avevo segnalato come soltanto il sole 24 ore e non si fosse accorto del fatto che questi soldi sono spesi in deficit, cioè in realtà si mettono dei soldi sui pensionati facendoli pagare con il deficit e quindi alle generazioni future. La cosa è semplice, banale, poi possiamo anche essere d'accordo a farlo, ma è quello che sta avvenendo. Oggi i giornali, ieri l'avvenire, pensate un po' voi, il giornale dei Vescovi, si accorge di questa contraddizione. Il sole 24 ore no, perché si deve pensare ai suoi numeri e ai suoi conti, che proprio oggi avranno un consiglio di amministrazione che sarà molto dedicato, ma oggi invece gli altri giornali iniziano un po' a fare le pulci ai numeri di Renzi. In particolare vi segnalo, scusatemi, ho dormito poco quindi un po' di caffè ci vuole la mattina, vi segnalo un po' di pezzi. Intanto quello di Maurizio Ferrera che è il fondo del Corriere della Sera, il fondo del Corriere della Sera in cui dice che una cosa fondamentale che bisogna ricordarsi, c'è un rapporto dell'Istat che ha fatto vedere come per ogni pensionato in più non equivalga necessariamente un nuovo assunto, soprattutto giovane. Cioè quella rottura di balle, quella cazzata che abbiamo raccontato per cui se mandi in pensione delle persone e assumi dei giovani è una cosa che pensano e credono soltanto quattro statalisti per cui pensano che l'economia sia una roba meccanica. Evidentemente mandano in pensione quelle aziende che non riescono ad avere più grandi commesse e assumono i giovani quelle aziende che stanno nascendo e che sono più fresche e che assumerebbero i giovani in ogni caso. Insomma l'economia non si fa sui libri, ma si fa nelle aziende, quindi non basta pensionare una persona per poterne prendere un'altra. Qualche volta avviene ma il tasso di sostituzione non è così elevato. L'Istat lo certifica Ferrera, Ferrara oggi Ferrara mi sembra, Maurizio Ferrara, che non c'entra niente con Giuliano, lo scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera. Molto bello come sempre Alberto Brambilla sul Corriere della Sera che dice la stessa cosa, cioè Ferdinando Giuliano su Repubblica che dicono bene o male la stessa cosa, cioè ragazzi noi stiamo spendendo 6 miliardi per le pensioni e poi vedremo quali, mentre in realtà il problema è far ripartire l'economia e dare lavoro ai più giovani. Ci sono dei pensionati che non stanno bene, queste sono tutte cose che ben sappiamo, ma sia il Brambilla sia Giuliano fanno vedere come in realtà la perdita di potere d'acquisto dei più giovani e delle famiglie sia molto superiore a quella dei pensionati. Ci sono forse probabilmente tra di voi molti pensionati che si arrabbieranno di quello che sto dicendo, ma è tutto relativo. Se un pensionato ha una pensione e un disoccupato non c'è neanche la disoccupazione, vogliamo una società in cui sia il nonno che fa da welfare per il figlio o vogliamo una società in cui ci sono imprese che assumano questo nipote e non sia così scorretto il ragionamento? È molto bello il tema che pone Brambilla e pongono tutti quanti e che Renzi inoltre fa una misura veramente elettoralistica perché tra le altre misure, oltre a quella che io più o meno condivido, cioè quella di far andare in pensione prima facendotelo pagare con la flessibilità, lui rimpingua le quattordicesime. Brambilla dice che solo in Italia esistono i quattordicesime, ma a parte questo passano da due milioni i pensionati che potranno avere la quattordicesima a tre milioni. Gran parte di questi nuovi pensionati che avranno la quattordicesima sono in situazioni familiari che non sono da bisognosi, sostanzialmente prendono più soldi ma non sono bisognosi, quindi questo non è un aiuto ai bisognosi perché gran parte di quelli che godono la quattordicesima hanno situazioni familiari non di bisogno. Complimenti, bel gesto elettorale, bella, bella, anche se come sapete io condivido di Calabresi soltanto forse il ricordo del padre, ma per il resto nulla, perché anzi continua a dire le stronzate che noi siamo una macchina del fango, però l'intervista fatta oggi a Piacentini che è l'uomo digitale, il numero due di Jeff Bezos di Amazon è da leggere, è molto interessante non per le domande di Calabresi o anche forse per quelle ma per le risposte di Piacentini. Questo è un paese in cui se un signore che è miliardario e ha fatto il numero due di Jeff Bezos e ha fatto una vita stupenda in California, prende e viene a Palazzo Chigi, qualcuno gli dice c'è qualcosa sotto, gli rompono le balle il conflitto di interessi, perché non vuoi essere pagato, perché lui non viene pagato e non vuole neanche rimborsi spese, c'è sempre questa cultura dello stracavolo italiana, dello sospetto. Piacentini ha detto voglio ridare all'Italia qualcosa che io ho avuto, l'istruzione, la mia felicità, la mia ricchezza, ci credo e Piacentini è talmente straordinariamente interessante in quello che dice, che dice neanche i miei genitori ci hanno creduto, perché hanno detto ma perché lo fai, ci avrà qualcosa in cambio, io me lo immagino la discussione tra i genitori semplici di Piacentini e questo super manager americano. Io penso che fino a prova contraria se c'è un signore che vuol dedicare il suo tempo dal numero due di Amazon, la più grande azienda multinazionale del mondo, venga in Italia e vuol pensare di risolvere i problemi del digitale in Italia, grazie gli si deve dire, non pensare sempre al cazzo di sospetto italiano che si ha nei confronti di chi è miliardario, di chi ha fatto soldi o di chi vuole occuparsi della cosa pubblica. Sapete che dico? Io spero che Piacentini faccia quello che non hanno fatto fino ad ora sul digitale, cioè le difficoltà del digitale italiano imparassero da Amazon, se la pubblica amministrazione italiana imparasse da Amazon io sarei l'uomo più felice da terra, per fare lo speed che quella identità digitale, che sono riuscito dopo tribolazioni mensili, ancora non sono riuscito bene a capire che cosa mi serve e come scaricarmi questa password, ma comunque lasciamo perdere, viva Piacentini, intervista il foglio invece di Visco, cioè da una parte c'è Piacentini e dall'altra c'è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che dice la seguente cosa sul referendum, l'Italia deve procedere su un percorso di cambiamento, parla come Magni, di che vuoi votare sì al referendum, come ha detto Briatore da me a Matrix, l'Italia deve procedere su un percorso di cambiamento, che vuol dire? Basta, vuoi votare sì al referendum, ma sei governatore della Banca d'Italia e non lo puoi dire perché hai un ruolo istituzionale, o non rispondi come faceva il grande Cuccia che non rispondeva alle domande dei giornalisti, o se fai un'intervista per il foglio abbi il coraggio di dire quello che devi dire. A proposito dei banche, Deutsche Bank, quelli che ci facevano a noi tutte quante i tedeschi, come si dice, le tarantelle sul sistema bancario italiano, Deutsche Bank, altro 8% per sorgio in borsa, disastro, Wall Street Journal, Financial Times ci dicono che i hedge funds, i fondi speculativi, che tanto speculativi non sono quando investono nelle banche, ma stanno ritirando l'investimento in, Deutsche Bank non si fidano. La Raggi, il Corriere della Sera fa tutta l'apertura sulla Raggi, sarebbe indagata la Muraro, è una indiscrizione di procura da parte della Sarzanini, perché la Muraro, l'assessore all'ambiente e alla monnezza urbana, la Muraro sarebbe stata in grandi rapporti con i vecchi di mafia capitale, quindi insomma il classico intreccio orribile di procure, avvisi di garanzia, io dico lasciatela in pace, ma lo dico perché sbagliasse da sola, io non lo so, su questa cosa di Raggi non riesco ad avere un atteggiamento pregiudizione nei confronti di questa nuova sindaca, però poi quando oggi vedo che sono stati richiesti tre anni di galera a Marino, 13 mila Euro di cene che non sarebbero giustificate e la Corte dei Conti gli chiede indietro 600 mila Euro, io dico Marino ho fatto una battaglia mostruosa contro Marino, ma in che paese viviamo? In che paese viviamo? Posto che Marino io lo considero un disastro, è stato un disastro per Roma, io non ce la faccio più di sentirmi questi magistrati, queste corti dei conti, che dei loro palazzi fanno inchieste giudiziarie, richiedono tre anni di galera per quattro fatture, quello sono contento che sia andato a casa, ma tre anni di galera, cos'è questo? Il mio telefono? No, non è ancora il mio telefono, anzi sì, sono i risultati di ieri sera di Matrix 8,50 alla grande, è andata molto bene ieri sera Matrix, yes, 10% l'altro ieri e 8,50 ieri in una puntata solo sulla politica estera, ottimo, ottimo, molto bene i risultati dell'Auditel, vi stavo dicendo di Raggi e di Marino, ma insomma ci divertono fino a un certo punto queste cose e oggi mi sono andato a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Bari, poi si chiama Gazzetta del Mezzogiorno, ma per noi pugliesi sappiamo che la Gazzetta era di Bari, ma comunque il tema fondamentale è che adesso, dopo l'incidente tra Andria e Barletta, le ferrovie dello Stato che non hanno certi controlli, le ferrovie che non hanno certi controlli elettronici, hanno subito l'ordinanza con una circolare dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza che debbono andare a massimo 50 km all'ora, yes, numero uno, bravi, complimenti, morte 23 persone, fatela circolare e questo cosa vuol dire? Che quelle persone adesso ne moriranno altre e sapete perché? Perché siccome purtroppo in questo paese, in tutto il mondo esiste l'eterogenesi dei fini, 50 km all'ora come velocità massima per i treni vuol dire che la gente non andrà più in treno, perché il treno sarà lentissimo, caotico, impossibile da usare, riprenderemo le auto, riprenderemo a circolare con le auto e altro che 23 morti in un anno, altro che 23 morti si avranno per la circolazione stradale. Quello che voglio dire, come dice benissimo la gazzetta del mezzogiorno, l'Italia delle carte a posto, questo è il nostro paese, è un paese per cui dopo i morti non si mettono a posto le ferrovie, ma si mettono a posto i regolamenti facendo i fenomeni, 50 km all'ora, non un km in più e ci saranno quelli che sparano se si va più di 50 km, questo è il paese e c'ha perfettamente ragione. Aspettate un secondo, ora non posso, ci risentiamo? Sì, mi puoi richiamare fra 5 minuti? Sì, va bene. Grazie. La diretta è anche questo qua, possiamo dirlo. 50 km all'ora come massimo è una roba che ti fa capire, come dice la gazzetta del mezzogiorno, che l'Italia è delle carte a posto, tutti in auto. Raggi, pensioni, carte a posto, quanto abbiamo fatto di diretta? 11 minuti e 02, direi che questo può bastare. Noi ci vediamo domani come sempre alla segna stampa e pensiamo già. Ragazzi, la disuguaglianza fa bene? Terza edizione, me l'hanno ristampato! Oggi pomeriggio vi parlo perché c'è una cosetta che dovete sapere, un altro scherzetto, non è più la commessa della Feltrinelli, ma un altro scherzetto che mi hanno fatto e vedrete che dobbiamo fare qualcosa insieme. Ciao!